Ciao, sono Luca Manelli e in questo video voglio spiegarti un metodo alternativo per creare una scala come quella che stai vedendo. Questa scala che è composta da una serie di rampe dello strumento scala ti ho spiegato come realizzarla in un precedente video che puoi trovare all'interno della descrizione di questo video. Invece ora ti voglio spiegare appunto un metodo alternativo senza andare ad utilizzare lo strumento scala ma andando ad utilizzare una funzionalità di ARCHICAD che si chiamano appunto profili complessi. Visto che ho già modellato la scala andrò ad utilizzare questi elementi come aiuto per la modellazione. Mi sposto però in pianta, vado a selezionare tutta la scena tridimensionale che hai visto e vado a muoverne una copia. In questo modo andrò a lavorare su una scena mantenendo anche l'altra in modo tale da poter vedere eventualmente le differenze. Sposto questi due elementi all'interno degli alzati. Mi sposto all'interno della finestra 3D. Per quanto riguarda la scena di destra vado a selezionare le scale e le vado a cancellare. Andrò a sostituire le scale cancellate con il nuovo sistema di creazione della scala. Per quanto riguarda la scena di sinistra dove ho già le scale le andrò a mantenere anche perché mi serviranno come traccia per creare le nuove scale. Vado a selezionare l'alzato, lo vado a muovere, lo posiziono più o meno in questo punto e faccio in modo che quest'alzato sia limitato orizzontalmente. Per cui vado ad attivare questo pulsante. In questo modo questa linea che si è andata a creare sarà la mia limitazione ma voglio che mi vada praticamente a sezionare da questo punto fino a questo punto senza vedere l'altra scena. Vado ad aprire l'alzato ovest e questo è il risultato che vado ad ottenere. Quella che adesso a me interessa è questa rampa per cui la vado a selezionare. Dal menu edita vado a copiare la rampa. Logicamente è un elemento tridimensionale ma a me quello che serve sarà la traccia bidimensionale di questo elemento. Una volta copiata mi vado a spostare nuovamente in pianta. Dal menu opzioni vado a richiamare profili complessi, gestore profilo. Creo un nuovo profilo. Vado a dare un nome a questo profilo. Una volta creato lo vado a posizionare all'interno della cartella architettura e confermo con ok. All'interno dell'editor profilo vado a incollare quello che ho copiato in precedenza. Logicamente che cosa vado a incollare? Vado a incollare la traccia bidimensionale. Questi elementi saranno appunto tutti i retini. Per cui vado a cancellare il retino che Archicad mi inserisce quando creo un nuovo profilo. Vado a prendere tutto il disegno che ho incollato. Lo vado a muovere e faccio in modo che questo punto che è il vertice basso della scala coincida con l'origine. Una volta fatte queste operazioni vado a selezionare la parte della struttura e vado a modificarne l'altezza di ogni singolo gradino. In questo modo faccio sì che la struttura vado a prendere la base del rivestimento dei gradini. Per quanto riguarda questo retino e anche quelli che compongono le pedate li vado tutti a selezionare e vado ad attivare il contorno. In questo modo avremo in sezione la scala con i contorni corretti. Dovremo poi andare ad effettuare delle ulteriori modifiche. Infatti puoi vedere che nella parte dove ho l'arrotondamento della pedata abbiamo tutta una serie di vertici che vengono generati dal copia e incolla della scala. Questi li dovremo andare a eliminare ma adesso poi ti spiego il perché li andremo a eliminare. Una volta fatte queste scelte vado all'interno del gestore profilo, seleziono lo strumento trave, deseleziono il muro e clicco su salva in modo tale da aver salvato questo profilo. Ritorno in pianta. Ora vado a selezionare lo strumento trave, apro la finestra impostazioni, all'interno della voce segmento vado ad attivare il profilo complesso e nello specifico all'interno della cartella architettura vado a selezionare la scala. Logicamente non avrò la quota corretta perché non ho impostato la quota ma non importa in questa fase non faccio altro che andare a disegnare la scala in modo tale da vedere immediatamente la scala che abbiamo creato. Come metodo geometrico mantengo selezionato quello a catena, parto da questo punto e vado a disegnare la scala. Nella realtà appunto la trave. Come puoi vedere vi dice che la mia trave non sarà visualizzata a questo piano. Clicco su continua, non ha importanza. Visualizziamo in 3d. Questa è la trave. Apro la finestra impostazioni, controllo a che piano è stata inserita. Possiamo vedere che come piano ospite è impostato il piano primo, seleziono il piano terra, confermo con ok e la trave è stata abbassata. Ora per poterla portare in quota non faccio altro che andarla ad abbassare all'interno della finestra 3d in modo tale da allineare la parte superiore al solaio di sbarco. Come puoi vedere abbiamo ottenuto un risultato praticamente quasi identico a quello che abbiamo ottenuto nell'altro video andando a creare questa scala utilizzando lo strumento scala. Dobbiamo però fare alcune modifiche. Infatti puoi vedere che tutta quella serie di nodi che ti ho fatto vedere nel profilo vanno a creare sull'arrotondamento tutta questa serie di segmenti che dobbiamo poi andare a modificare. E poi vogliamo modificare anche il materiale di superficie delle alzate. Per fare questo mi sposto nuovamente all'interno dell'editor profilo. Vado a selezionare la prima pedata. Vado a utilizzare il comando dividi. Vado a dividere partendo da questo nodo in verticale verso l'alto e cancello la parte di destra del retino. Ora lo vado a selezionare. Clicco sul lato e vado ad arrotondare. Questa è la prima operazione. Adesso non faccio altro che andare a selezionare tutte e tre i retini. Li vado a cancellare. Seleziono il primo che ho modificato. Vado a richiamare il comando. Muovo una copia. Vado a prendere questo punto e lo vado a posizionare in questo punto. Come puoi vedere questa pedata, almeno per quanto riguarda il retino, è leggermente più corta. Per cui la vado ad allungare. E ora utilizzando il comando muovi multiple copie vado a muovere questi due retini che vanno appunto a simulare le prime due pedate. Fatto questo vado a salvare il profilo in modo tale da aver salvato questa modifica sulle pedate. Per quanto riguarda invece il materiale di superficie della parte della struttura vado a selezionare la struttura. All'interno delle impostazioni del gestore profilo vado ad attivare il pannello componenti e vado a selezionare la voce sovrascrivi superfici. Vado a selezionare in tonaco stucco bianco grezzo. Una volta fatta questa operazione clicco su salva. Torniamo all'interno della finestra 3d. Archical rielabora e puoi vedere che abbiamo praticamente lo stesso risultato solo che in questo caso abbiamo un profilo complesso creato con una trave invece in questa situazione abbiamo appunto tutta una serie di rampe. Torniamo un attimo in pianta perché come puoi vedere a sinistra abbiamo una traccia bidimensionale che ci permette di capire che è una scala invece su questo lato nella parte di destra non visualizziamo i gradini. Vado a selezionare la trave apro la finestra impostazioni dello strumento trave. All'interno del pannello piante e sezione come prima cosa vado a selezionare mostra sui piani non tutti i piani relativi ma solo il piano ospite. Per quanto riguarda invece la proiezione vado a selezionare visualizzazione impianta e seleziono solo contorni e la modalità di proiezione vado a selezionare no simbolico ma proiettato. Fatto questo già possiamo vedere la proiezione della trave impianta che ci permette di vedere i gradini confermo con ok e vediamo che abbiamo un simbolo bidimensionale che ci permette di capire che questa è una scala. Per quanto riguarda la linea di passo e quant'altro invece in questo caso dovremmo andarla a disegnare con lo strumento linea per cui basta andare a selezionare una linea andare a definire una linea con il terminale a freccia magari vado ad inserire un valore pari a 4 mm per quanto riguarda il dimensionamento della freccia e per quanto concerne appunto la linea di passo la vado a disegnare in questo modo. Non l'ho inserita al centro perché non potevo visualizzare il centro di questo lato adesso Archicad me lo fa vedere la vado a posizionare così. In questo modo possiamo vedere che a livello bidimensionale abbiamo una scala quella di destra creata con lo strumento trave a profilo complesso che è molto simile graficamente a quella di sinistra. La differenza sta nel fatto che per quanto riguarda la scala di sinistra essendo stata fatta con una serie di scale abbiamo questa linea che identifica appunto le varie rampe. Invece nella parte di destra non abbiamo una linea che va a separare le rampe ma abbiamo una rappresentazione che sembra appunto un'unica scala. Ecco questi erano due metodi per poter creare questa tipologia di scala a livello tridimensionale cambia poco come tipo di rappresentazione e lascia a te la soluzione migliore per poter realizzare questo tipo di scala all'interno dei tuoi progetti.